Monfalcone sfida Trieste, UFM contro Nuova Triestina, la sfida dell'anno in eccellenza, sabato ore 15 allo Stadio Boito, FWG Sport Channel si prepara all'evento. Per la prima volta nella storia del calcio dilettante in Friuli Venezia Giulia, proveremo a mostrarvi in diretta questa gara, quindi collegatevi alle ore 15 in via sperimentale questa diretta di una gara importantissima, ma quello che è certo è che cureremo nei minimi dettagli questo evento a partire da venerdì alle ore 23.30 la replica della gara del girone di andata, quello storico Triestina UFM e poi sabato sicuramente via streaming, via internet, le immagini della diretta. Cliccate www.fwgsportchannel.com, li vedrete le immagini di una gara che tutti aspettano e poi domenica dopo a tutto campo alle 21, da ogni angolazione le emozioni di UFM Triestina, ben 5 telecamere seguiranno l'evento. Questa è la gara dell'anno e questo FWG Sport Channel solo sul 113 il meglio del calcio dilettante.